Come funziona Readball? Perché parliamo di un prodotto piuttosto di un altro? Perché all'interno di una delle nostre guide per gli acquisti c'è X al posto di Y? Sono queste alcune delle domande che quotidianamente arrivano sul sito, su YouTube, su Facebook, insomma un po' dove capita, dove voi utenti volete sapere come funziona un sito come Readball che si occupa di fotografia, di videogiochi, ovviamente anche di tecnologia, quali sono i criteri di scelta di un prodotto piuttosto che di un altro, perché raccontiamo una cosa e non un'altra e soprattutto com'è che alla fine quando magari trovate uno dei nostri articoli di consigli per gli acquisti, quali sono stati i criteri che ci hanno portato a mettere un prodotto al posto di un altro e perché abbiamo fatto quelle scelte? Voglio rispondere a queste domande perché qualche settimana fa abbiamo pubblicato un articolo che si chiama Come lavoriamo dove vi spieghiamo per filo e per segno tutte queste cose che vi ho appena anticipato. Se volete vederlo è linkato in descrizione qua sotto ma all'interno di questo video vado a rispondere a voi direttamente raccontandovi un po' alcune cose di questa pagina. Se volete però avere tutta l'immagine, tutto il quadro vi consiglio di andare a vedere assolutamente quell'articolo. Detto questo, cominciamo! Per spiegarvi al meglio come funziona Readball oggi è necessario fare un salto indietro lungo ben 4 anni. E' quando Readball è andato online per la prima volta ed era un sito monotematico che parlava solo e soltanto di Apple. Sì, ai tempi Readball era un sito dedicato, anzi un blog dedicato alla mela, all'iPhone, all'iPad, a tutto ciò che riguarda l'azienda di Cupertino. Ma pian pianino che si è espanso lo staff abbiamo cominciato ad affrontare altri argomenti andando anche incontro a quello che erano oggettivamente dei trend di mercato. E poi pian pianino sono entrati a far parte della famiglia gli hub di fotografia e videogiochi. E ad oggi sono questi tre gli argomenti che Readball affronta non soltanto su YouTube ma anche ovviamente sul sito. L'idea alla base è sempre stata quella di offrire contenuti di qualità. Bene, ognuno può avere la propria idea e la propria percezione di qualità. Per noi significava parlare delle cose soltanto nel momento in cui ne avevamo effettivamente una competenza. E soprattutto non raccontarvi frotto né non raccontarvi i primi rumor che capitavano online. Ma cercare giorno dopo giorno magari di offrire meno contenuti ma con più spessore e soprattutto con un pochino di ragionamento dietro invece che mettere lì online soltanto cose alla rinfusa. Questa cosa è un po' cambiata nel corso del tempo. La qualità è rimasta sempre alla base, un pilastro del nostro lavoro giorno dopo giorno. Ma è cambiato il tipo di contenuto che abbiamo offerto nel corso degli anni. Questo perché abbiamo raccolto, anzi intercettato un trend e soprattutto delle esigenze degli utenti. E abbiamo capito che c'era effettivamente la necessità di rispondere a delle vostre domande. Cioè quelle di sapere quali prodotti comprare nel momento in cui uno deve andare effettivamente a comprarsi il nuovo smartphone, la nuova fotocamera oppure il nuovo titolo per la PlayStation 4. Questa cosa è stata per noi molto importante perché ci ha permesso non soltanto di pian pianino di cambiare un pochino alcuni dei contenuti piuttosto che altri. Ma soprattutto ha messo in piedi un sistema di cui adesso noi andiamo molto fieri. Che ci permette di effettivamente raccontarvi le cose soltanto nel momento in cui sentiamo di averne la giusta competenza. Soprattutto nel momento in cui siamo riusciti a seguire questi processi, questi prodotti per tanto tempo. Questi cambiamenti al modo di ragionare hanno messo in piedi nel corso del tempo tutta una serie di contenuti che noi chiamiamo banalmente guide agli acquisti o consigli per gli acquisti. Possono sembrare soltanto dei contenuti messi lì per far cassa tra virgolette ma in realtà vi assicuro che c'è tantissimo lavoro dietro e proprio lo scopo di questo video è raccontarvi che cosa facciamo giorno dopo giorno per far sì che questi articoli vadano online. Ci siamo prefissati degli obiettivi e ci siamo prefissati dei metodi di lavoro che noi riteniamo piuttosto puntuali e precisi e che impongono di seguire un prodotto in tutta la sua vita, in tutta la sua storia. In pratica noi cerchiamo di seguirlo fin dal momento dell'annuncio che magari può avvenire in delle fiere internazionali, in degli eventi in cui noi cerchiamo sempre di partecipare, lo avete visto nel corso degli anni qui su YouTube. Poi magari realizziamo un'anteprima vedendo il prodotto più da vicino e con un pochino più di calma. Succede poi che dopo qualche settimana ci arriva il sample e riusciamo a effettuare la recensione e a quel punto soltanto dopo aver provato questo tipo di prodotto riusciamo a metterlo all'interno delle nostre guide per gli acquisti. Questi tipi di articoli non sono come tanti altri che trovate online che magari sono stati realizzati partendo da recensioni di Amazon, magari partendo da recensioni di altri siti, magari soltanto intercettando un po' le vendite in generale e mettendoli dentro a questi articoli un po' tutto quello che capita, ma noi cerchiamo di mettere prodotti con coscienza, cioè cercando di raccontarli a voi nel corso del tempo e far sì che ogni scelta sia giustificata. Seguire un prodotto dal primo all'ultimo giorno comporta ovviamente delle responsabilità, questo significa che per scelta noi evitiamo di parlare di cose che magari non conosciamo molto bene o che semplicemente non siamo riusciti a seguire perché il loro arrivo sul mercato è stato troppo volatile. Per questo magari banalmente non trovate la recensione di un certo prodotto perché il suo arrivo è stato così improvviso oppure perché magari viene sostituito dopo poco tempo e noi vogliamo prenderci il tempo di effettivamente entrare a conoscere quel prodotto perché alla fine di tutto siete voi utenti che andate a spendere 100 euro, 200 euro, 300 euro o chissà quanti altri soldi per comprare quel prodotto di cui vi sto parlando e vi fidate del nostro giudizio per far sì che il vostro acquisto non vada sprecato. E' per questo che noi all'interno delle guide per gli acquisti non mettiamo prodotti scadenti e soprattutto al contrario non mettiamo mai un solo prodotto. Cerchiamo sempre di consigliare una gamma di dispositivi, una gamma di giochi, una gamma di macchine fotografiche in modo tale da lasciare comunque a voi utenti la scelta finale del quale comprare in base alle vostre esigenze. E' per questo che all'interno di questi articoli ci sarà sempre 2, 3, 4 prodotti che possono fare al caso vostro invece che uno soltanto perché siamo sicuri che un solo prodotto scelto dai nostri criteri comunque potrebbe non rispondere effettivamente alle vostre esigenze finali. Inoltre ci imponiamo e ci imponiamo letteralmente di aggiornare tutti questi articoli di guide per gli acquisti mese dopo mese. Questo significa che ogni 30 giorni potete star certi di entrare all'interno di quell'articolo e trovarlo diverso dall'ultima volta in cui ci siete entrati. Questo significa che noi su base mensile andiamo ad aggiornare i prodotti contenuti all'interno, andiamo a vedere che cosa sta dicendo il mercato, andiamo a mettere dentro gli ultimi prodotti che abbiamo recensito, andiamo a togliere ciò che non si trova più, che non è più disponibile o che più oppure semplicemente non è più consigliabile, aggiorniamo i prezzi, aggiorniamo i cataloghi, in questo modo riusciamo ad offrirvi sempre un contenuto aggiornato. Per noi è importantissimo fare questo tipo di lavoro perché riusciamo ad offrire un servizio a voi utenti e soprattutto questa cosa ci permette anche a noi di riuscire a seguire al meglio tutti i prodotti, a conoscere giorno dopo giorno la loro storia in modo tale da avere una visione a 360 gradi di tutto ciò che sta offrendo il mercato. Molto spesso però ci chiedete com'è che guadagna un sito come Readball, soprattutto com'è che entrate in contatto con tutti questi prodotti e soprattutto c'è del conflitto di interessi nel raccontare una cosa e alla fine andarla a inserire magari all'interno di un articolo di consigli per gli acquisti dove alla fine cerchiamo in maniera spicciola, scusatemi il termine, di vendere una cosa, cioè vendere un prodotto, vendere un concetto. Voglio rispondere subito a queste domande. La prima cosa Readball guadagna come tutti i siti presenti online in questo periodo principalmente tramite banner pubblicitari e soprattutto tramite sistemi di affiliazione, sistemi di affiliazione che permettono su ogni acquisto che l'utente va a fare attraverso una nostra pagina quindi passando attraverso Readball di guadagnare una piccola percentuale di ogni vendita. Questo non comporta assolutamente un aumento di prezzo del dispositivo finale ma in realtà permette a noi di guadagnare qualcosa andando a togliere una piccola percentuale di guadagno al rivenditore online. Solitamente ci appoggiamo ad Amazon, questo comporta che noi sfruttiamo molto questo rivenditore piuttosto che altri, è una cosa piuttosto normale nel settore della tecnologia, dei videogiochi e della fotografia, lo noterete anche su altri siti online, non c'è bisogno che faccia nomi. Questo perché Amazon è uno dei migliori rivenditori che potete trovare voi utenti per comprare con la sua politica di reso, con la sua garanzia e tutto il resto e soprattutto a noi che manteniamo un sito permette di avere un sistema di affiliazione molto solido con dei numeri scritti sulla pietra e che permettono di guadagnare e di far andare avanti le nostre attività. Amazon è il rivenditore che noi tendenzialmente preferiamo ma come vedete all'interno della pagina come lavoriamo, collaboriamo con tantissimi rivenditori online in modo tale da offrire una scelta di prezzi sempre molto ampia e sempre più variegata. C'è quindi un conflitto di interesse? No, per noi la risposta è no. Quando mettiamo un prodotto all'interno dei consigli per gli acquisti e perché è stato recensito o comunque provato e dandoci un feedback positivo le recensioni che vedete online qui sul canale che faccio io mettendoci la faccia appunto sono un sintomo di questa cosa. Il fatto di esporsi in maniera così diretta e dirvi se una cosa vale la pena o meno per noi significa anche eliminare questo conflitto di interessi perché proprio parliamo del prodotto in maniera cruda e diretta e vi diciamo se vale la pena acquistarlo o no. All'interno di questi consigli per gli acquisti non troverete roba scadente, non troverete prodotti recensiti in maniera negativa, ci sono dei criteri in atto che ci permettono di scegliere una cosa piuttosto che un altro. Sarebbe conflitto di interesse parlare di la qualunque, mettere qualsiasi cosa e riempire la pagina di pubblicità. Come vedete entrando su Readball non c'è molta pubblicità online, abbiamo pochi banner che sono messi lì giustamente per remunerare ma anche perché ne vogliamo pochi per non dare fastidio a voi utenti e soprattutto se invece avessimo inserito tantissimi banner e allungato il brodo con centinaia di articoli uguali cambiando soltanto una parola ogni tanto, quello sarebbe stato sintomo di un conflitto di interessi. Essere sinceri e parlarvi di quello di cui effettivamente sappiamo per noi rappresenta la totale distanza dal tema del conflitto di interesse. E per rispondere infine ad un'ultima domanda, com'è che entriamo in contatto con tutti i prodotti che poi vedete nelle recensioni e nelle nostre prove? Com'è che ci arrivano fra le mani? Beh in realtà è molto semplice, Readball nel corso del tempo si è fatto una reputazione, abbiamo costruito dei rapporti, delle relazioni con i vari uffici stampa e con le aziende che ci invitano ad eventi, ci invitano a vedere i loro prodotti, ci mandano i prodotti e ci permettono di provarli e poi parlarne a voi direttamente dopo averli tenuti in mano per almeno diversi giorni ed essere riusciti a fare tutti i nostri test del caso. Può succedere talvolta che questa cosa non sia possibile con un ufficio stampa o con un'azienda direttamente, si può procedere per via alterne, è capitato manualmente di acquistare alcuni prodotti direttamente di tasca nostra per potervene parlare in una recensione o comunque in un contenuto, oppure è capitato che alcuni negozi si offrissero generosamente di inviarci alcuni dei loro prodotti in modo tale da permetterci di provarli a fondo. Con questi tre metodi noi riusciamo solitamente a coprire un po' tutto ciò che riguarda il mondo di fotografia, videogiochi e tecnologia e riusciamo a provare tutto ciò che viene rilasciato ultimamente sul mercato. Insomma ho parlato davvero a lungo ma non vi ho detto ancora tutto, vi ricordo ancora una volta che nella pagina Come Lavoriamo trovate tantissime informazioni che vi permettono di scoprire ancora di più sulla storia di Readball e sul nostro metodo di lavoro. Spero di aver risposto ai vostri dubbi e alle vostre domande, se ne avete altri c'è il box dei commenti qua sotto, se avete qualsiasi domanda siamo qui per rispondere come sempre in maniera molto trasparente, noi come sempre ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per Readball.com, Andrea Ricci.